A voi tutti ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Betis. Cari amici, guardate chi si rivede l'anticiclone, vedete, guadagna terreno verso l'Italia proprio sul nord-ovest, a partire dal nord-ovest. Ed in effetti il tempo è andato migliorando in maniera netta. Avremo un weekend molto buono, finalmente abbiamo ogni tanto visto la luce in fondo al tunnel, ma adesso usciamo un po' da questo tunnel, usciamo un po' da questo tunnel proprio in concomitanza con l'inizio dell'estate meteorologica dal primo di giugno, quindi in questo weekend avremo un fine settimana, appunto, estivo finalmente, con un venerdì all'insegna del bel tempo, poche nuvole, nuvole soprattutto su zona attorno ai rilievi, per il resto davvero null'altro da segnalare. Certo ancora fresco al mattino, ma ci vorrà un po' prima che le temperature minime aumentino, però guardate, durante il giorno temperature invece che aumenteranno giorno dopo giorno in questo weekend, temperature infatti comprese tra i 23 e i 27 gradi, avete sentito bene. Per il momento è tutto, buon proseguimento di weekend, arrivederci.